Dopo il ritiro di Biden si sta facendo strada alla figura di Kamala Harris che cresce anche nei sondaggi cercando di trovare un po' il suo spazio mediatico e nell'immaginario popolare. Intanto nel Regno Unito il nuovo premier Keir Starmer sta applicando quello che politico definisce un radicalismo silenzioso in materia ambientale. Parliamo anche della situazione a Gaza e di Netanyahu che è volato negli States e dell'arresto del fondatore di C. Sheffield, Paul Watson. Io sono Andrea degli Innocenti, oggi è il 25 luglio 2024 e questo è il numero a segno della stessa stampa commentata di tale che cambia. Sigla! Tarda mattinata di domenica, la vicepresidente Kamala Harris ha convocato un piccolo gruppo dei suoi più stretti consiglieri e alleati all'osservatorio navale dove vive e lavora con poco preavviso e ancora meno informazioni. Il presidente Biden l'aveva informata quella stessa mattina che sarebbe ritirato dalla corsa. La vicepresidente aveva radunato il suo team in modo che esattamente nel momento in cui Biden avrebbe formalmente annunciato il ritiro alle 13.46 fossero pronti ad agire. Il tempo era essenziale, una vasta lista di chiamate dei più importanti leader democratici da contattare era stata preparata in anticipo. La vicepresidente in sneakers e felpa ha iniziato metodicamente a chiamare i potenti del partito. Non potevo lasciare che questa giornata passasse senza che sentissi la mia voce, sembra aver detto ripetutamente Harris nel corso di queste telefonate secondo alcuni dei chiamati. Ha chiamato gli ex presidenti democratici, molti dei suoi potenziali rivali, inclusi i governatori Gretchen Whitmer del Michigan, JB Pritzker dell'Illinois e Josh Shapiro della Pennsylvania. I leader congressuali democratici, il senatore Bernie Sanders, i capi dei vari influenti caucus e altri importanti democratici. La raffica di chiamate ha dimostrato esattamente il tipo di vigore ed energia che a Joe Biden era mancato nelle ultime settimane. Si dice che Biden abbia fatto 20 chiamate ai democratici del congresso nei primi 10 giorni dopo il dibattito, mentre la sua candidatura era in bilico. Kamala Harris ha fatto 100 chiamate in 10 ore. Ecco, questo estratto di un articolo piuttosto lungo di Shane Goldmacher sul New York Times mostra in maniera piuttosto evidente tutta la differenza di passo fra Harris e Biden. Non si tratta qui tanto di idee politiche, ma proprio di vigore, di capacità d'azione, anche banalmente dei molti anni in meno. E questo vigore sembra aver sortito già i primi effetti. Due sono stati principali. Il primo è di aver sbloccato nuovamente i finanziamenti a fiume da parte degli sponsor dei democratici. L'altro è quello di aver fatto immediatamente recuperare punti nei sondaggi rispetto a Trump, appunto Harris. Come racconta Alessandro D'Amato su Open, il primo sondaggio effettuato dopo l'ufficialità del ritiro di Biden dà Harris in vantaggio di due punti su Trump, 44% a 42%. E Kamala vincerebbe anche in una gara a tre, quindi quando si considerano i sondaggi anche i candidati cosiddetti minori, avrebbe il 42% contro il 38% di Trump e l'8% di Robert Kennedy. Ciò non significa che i democratici siano effettivamente favoriti in questo momento, perché in realtà, come racconta ad Open il sondaggista Tony Fabrizio, si tratta di una crescita in qualche modo prevedibile e dice il sondaggista per un paio di settimane vedremo una luna di miele fra Harris e l'elettorato americano grazie alla copertura mediatica positiva e questo lo farà crescere nei sondaggi, specialmente nazionali, permettendoli di raggiungere o anche superare Trump. E poi il trend potrebbe in qualche modo riassestarsi e riequilibrarsi molto, secondo appunto quanto dice il sondaggista. Ieri sera, nella notte italiana, Biden ha tenuto un discorso in diretta TV in cui ha spiegato pubblicamente le motivazioni della sua scelta di ritirarsi, ha detto che meritava la rielezione, meritava una seconda chance, ma che è tempo di farsi da parte e lasciare spazio alle nuove generazioni, perché in ballo c'è la democrazia. Quindi non è che in realtà abbia spiegato così tanto delle ragioni vere, insomma, si pensava che avrebbe parlato o della sua salute o in qualche modo delle pressioni fatte, non ha citato nessuno dei due argomenti. Ma comunque, insomma, questo è stato il discorso di Biden nella notte italiana. Intanto Harris, nelle sue primissime uscite, ha cercato invece di trovare la sua cifra stilistica. E come racconta Matteo Muzio su Domani, Harris ha puntato su due linee narrative fondamentalmente. Una è la narrazione di sé come ex procuratrice che perseguita il criminale condannato Donald Trump, quindi questa forte distinzione fra i due personaggi. L'altra è quella di portabandiera dei grandi risultati raggiunti in questi quattro anni sui temi economici e sui diritti civili, compresa la legge varata a difesa del matrimonio egualitario. Certo, non mancano anche i problemi per Harris, perché restando su Domani c'è il tema della ricca eredità di Biden. In pratica Harris, in quanto vicepresidente, ha ereditato automaticamente, forse automaticamente, una eredità di circa 91,5 miliardi di dollari per la campagna elettorale di Biden. Ma i repubblicani non ci stanno, Trump l'ha definita una rapina e alcuni suoi colleghi hanno già fatto, anzi richiesto, al momento l'impeachment per Harris, però ecco, perché non si capisce quanto sia legittimo e automatico questo trasferimento di fondi da un candidato all'altra. Sembra che, insomma, i democratici sostengono che sia automatico e legittimo, i repubblicani sostengono che non lo sia. Comunque, al momento, quella dell'impeachment sembra una iniziativa con veramente poche speranze di riuscite. In tutto ciò, però, formalmente, la nomina della nuova candidata alla presidenza avverrà durante la convention democratica, che si trarrà dal 19 al 22 agosto. Quindi, Harris sta facendo già una sorta di pre-campagna elettorale, senza avere formalmente la nomina. I delegati, in quel caso, eleggeranno il potenziale presidente e vicepresidente, anche se si inizierà a votare già dalla prossima settimana in forma virtuale. Comunque, la candidatura di Harris non appare, insomma, in bilico, sembra abbastanza scontata e certa, però c'è da capire chi sarà il suo o la sua vice. Staremo, ovviamente, a vedere. Questi sono dei temi in cui, comunque, continueremo ad aggiornarci durante l'estate, anche se in questa versione meno frequente di Io non mi rassegno. Ci spostiamo nel Regno Unito e ci spostiamo su Valori, per un articolo che mostra un lato nascosto del nuovo premier, Kerry Starmer, eletto, insomma, poche settimane fa, un po' a furore di popolo, con una percentuale altissima di voti. Leggo dall'articolo a firma di Lorenzo Tecleme. Via alla moratoria sulle paleoliche a terra, stoppa le nuove trivelle nel mare del nord, tasse sulle multinazionali del comparto energia e luce verde a un'azienda 100% pubblica dedicata alla transizione ecologica, che l'annunciata vittoria del partito laborista nel Regno Unito avrebbe messo fine all'accanimento dei governi conservatori contro le politiche climatiche era atteso, ma gli analisti non si aspettavano l'iperattivismo che l'esecutivo guidato da Keir Starmer sta mostrando nelle prime settimane dal potere. Molto del merito è di Ed Miliband, già guida del partito fra il 2010 e il 2015 e ora segretario di Stato per i cambiamenti climatici e il net zero. Sta a lui dimostrare che i labor sono pronti a superare le loro tante contraddizioni in materia ambientale e climatica. In pratica questo articolo davvero molto interessante spiega che appunto la propensione ecologista e volta alla transizione energetica di Starmer sta veramente di gran lunga superando ogni attesa, anche per la velocità con cui arrivano queste novità, un po' a raffica. Continuo più avanti dove si scende un po' nei dettagli. A pochi giorni dalla vittoria, l'appena nominato ministro Ed Miliband ha iniziato la sua girandola di annunci. Come prima cosa il governo laburista ha rievocato le leggi che rendevano quasi impossibile installare parchi eolici in shore, cioè a terra, nel Regno Unito. Si trattava di una moratoria de facto, composta da un insieme di regole che rendevano estremamente facile bloccare nuove pale. Le ragioni che spinsero i toris a promuovere queste norme nel 2015 erano essenzialmente di tipo paesaggistico. Ora il governo Starmer centralizza le autorizzazioni del settore che verranno erogate direttamente da Londra. La seconda novità riguarda le trivelle offshore, cioè in mare. Le acque a largo della Scozia sono ricche di petrolio e gas naturale e il Regno Unito, prima di Brexit, era il principale produttore di idrocarburi dell'Unione Europea. Già durante la campagna elettorale i laburisti avevano promesso di non autorizzare nuovi impianti estrattivi pur lasciando in funzione quelli esistenti. Ora, secondo il Financial Times, Miliband starebbe considerando l'ipotesi di bloccare anche quei progetti il cui iter autorizzativo è già iniziato. Stando all'autorevole testata specializzata Carbon Brief, in seguito a questa svolta il Regno Unito potrebbe aderire alla Beyond Oil and Gas Alliance, la cosiddetta BOGA. Si tratta di un piccolo consorzio di stati, capitanato da Danimarca e Costa Rica, uniti nell'impegno a non cercare nuovi combustibili fossili nel proprio territorio, quindi a non trivellare, a non scavare per estrarre petrolio, sostanzialmente gas. Se la decisione verrà confermata e gli esperti ipotizzano nel caso la COP29 di Baco a novembre come location per l'annuncio, il Regno Unito diventerebbe la nazione più ricca di idrocarburi a entrare nel BOGA. Altre novità sono la scelta di ritirare l'appoggio governativo a una nuova miniera di carbone in Cumbria, nel Lord Est dell'Inghilterra, e aumentare delle tasse sulle compagnie di settore energetico. Ma la decisione potenzialmente più trasformativa è la prossima istituzione del Great Britain Energy, ovvero una compagnia 100% pubblica col compito di intervenire direttamente nel processo di transizione alle fonti energetiche pulite. L'agenzia, secondo Bloomberg, investirà in produzione, distribuzione, stoccaggio e fornitura di energia pulita nonché nelle riduzioni delle emissioni di gas serra derivanti dall'energia prodotta da combustibili fossi. Il budget di partenza dovrebbe essere anche bello significativo, ovvero 8,3 miliardi di sterline, miliardi di sterline, ed è una decisione quella di istituire questa GB Energy che rompe in parte con il blairismo, la corrente che aveva caratterizzato negli ultimi anni il partito laborista e che aveva visto una lunga stagione di privatizzazioni, riduzione dell'intervento statale in economia e così via. In realtà a picconare questa strategia di privatizzazioni erano già stati i TORIS perché pensate che durante il Covid era stato l'allora premier conservatore Boris Johnson a rinazionalizzare alcuni vettori ferroviari per evitarne il fallimento però ecco adesso si mette il carico da 90 e si crea una compagnia completamente pubblica che avrà in carico un po' la transizione energetica in tanti diversi aspetti. E osservare che questo accade nel Regno Unito che è stato il primo probabilmente paese, almeno in Europa, a spingere sull'economia ultraliberista di privatizzazioni e di appunto riduzione drastica dell'intervento statale è un fattore davvero molto molto interessante. Comunque come si spiegano queste scelte di Starmer? Perché fa queste cose senza rimendicarle e senza neanche averle promesse? Ecco, secondo Alberto Manconi, ricercatore dell'Università di Lausanna ed esperto di mobilitazioni ambientali nel Regno Unito, che ha parlato proprio con valori, le scelte di Starmer vanno inserite nel contesto britannico, cioè nel paese che ha avuto e ha tuttora il più forte movimento ecologista d'Europa. Il Partito Laborista esprime oggi probabilmente il governo più a destra della sua storia, a livello di posizionamento politico, la storia del Partito Laborista stesso, ma a dipressione dal basso lo costringono, secondo appunto Manconi, a concedere delle vittorie all'ecologismo, anche perché alla sua sinistra la crescita dei Verdi e l'ingresso in Parlamento di alcuni candidati indipendenti, fra cui l'ex segretario Jeremy Corbyn, rappresentano un piccolo campanello d'allarme nel partito. Fatto sta che, vuoi per scelta, vuoi per una sorta di imposizione dal basso, vuoi per gli equilibri interni al partito, Starmer si sta trovando ad essere l'esponente di una nuova corrente ecologica che politico ha definito Quiet Radicalism, ovvero Radicalismo Silenzioso, che, se ci pensate, è un po' il contrario del Greenwashing, che si basa invece sullo sbandierare un impegno inesistente, qui invece quasi non si racconta una serie di fatti concreti molto importanti. Ed è un fenomeno davvero molto 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 interessante da notare. Tra l'altro, alcuni di questi temi che abbiamo trattato, che vengono trattati in questo articolo, e che sono all'ordine del giorno nel Regno Unito, sono temi molto caldi anche da noi e lo è, ad esempio, quello del contrasto fra eolico e paesaggio, eolico e altri aspetti ambientali, che è, e non solo ambientali, in realtà, che è un tema più complesso di quanto sembri e che sta diventando l'ennesimo tema polarizzante nel nostro paese, in cui si stanno creando due fazioni nette e spesso piuttosto ideologiche, mi permetto di dire, e stiamo raccontando la questione anche su Italia che cambia, dando spazio, come è giusto che sia, anche a voci in contrasto fra di loro. Oggi vi segnalo un articolo a firma di Paolo Piacentini su questo tema. Lo trovate sotto fonti di articoli sulla pagina rassinastampa di Italia che cambia.org. Anche sul fronte israelo-palestinese sono successe diverse cose. Ieri il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, era negli Stati Uniti per incontrare Biden e il congresso americano. Ha tenuto un discorso davanti al congresso in cui ha detto America e Israele devono rimanere unite, noi insieme vinceremo. Ma il suo discorso è stato accolto dalle proteste ed è stato disertato, pensate, proprio da Harris e da Nancy Pelosi. Harris, appunto, nuova candidata, probabilmente, presidente. E Nancy Pelosi che in teoria doveva presenziare nella sua veste di vicepresidente del Senato, ma che ha preferito essere a un evento in Indiana. Sotto traccia corre l'accusa soprattutto dei democratici americani a Netanyahu di aver prolungato forzatamente, artatamente, la durata del conflitto soltanto per arrivare alla vittoria e all'insediamento di Donald Trump che si presume dovrebbe essere in maniera più spinta, favorevole a Israele rispetto invece alla questione palestinese. Comunque, il premier israeliano Netanyahu vedrà Trump nei prossimi giorni Trump con il quale ha rapporti altalenanti, ma comunque appunto migliori di quelli che potrebbe avere con Harris almeno questo secondo diversi giornali e lo vedrà nella sua residenza privata di Mar-a-Lago. Nel frattempo succedono altre cose Al Cairo sono ripresi i colloqui per un possibile cessate al fuoco mentre Hamas ha annunciato di aver firmato a Pechino un accordo di unità nazionale con altre organizzazioni palestinesi, fra cui il partito rivale Al-Fatah e, secondo il governo cinese, l'accordo prevede un'amministrazione congiunta per il dopoguerra. In pratica, i rappresentanti di 14 gruppi palestinesi hanno raggiunto Pechino alcuni giorni fa, a suo invito del governo cinese per lavorare a un'intesa su cosa succederà dopo la fine del conflitto, dopo la fine dell'invasione israeliana. Secondo il capo della diplomazia cinese, l'accordo prevede la creazione di un governo ad interim di riconciliazione nazionale e questo accordo metterebbe d'accordo appunto tutte le principali forze politiche palestinesi e che si impegnano ad amministrare in maniera congiunta sia la striscia di Gaza che la Cisgiordania. Ovviamente è un accordo che probabilmente non vedrà favorevoli Stati Uniti e Israele che si sono sempre opposti a una presenza di Hamas in qualsiasi governo post-invasione. Comunque, nell'occasione il ministro degli esteri cinese Wang ha anche lanciato un appello per un cessato del fuoco completo e duraturo nella striscia di Gaza in modo da garantire l'accesso agli aiuti umanitari. Molti giornali hanno riportato la notizia dell'arresto di Paul Watson fondatore di Seas Shefford e in precedenza co-fondatore di Greenpeace. Watson è stato arrestato in Groenlandia e ora rischia l'estradizione in Giappone. Ne abbiamo parlato anche noi su Italia che cambia e l'abbiamo fatto con un articolo che mi permetto di definire piuttosto diverso dagli altri perché è un articolo molto personale, anche intimo scritto un po' di getto dal nostro direttore Daniel Tarozzi. Come si può parlare in maniera intima e personale dell'arresto di una persona? Vi starete forse chiedendo se non avete letto l'articolo. In realtà si può perché Daniel coglie l'occasione per mettere a nudo alcuni aspetti del suo ma direi del nostro animo perché è qualcosa che unisce in qualche forma tutte le persone aspetti di cui magari non andiamo a fieri come la pigrizia, l'ignavia aspetti che però appartengono un po' a tutti noi almeno in qualche momento almeno in qualche misura ma che è importante non nascondere non ignorare ma bensì ascoltare, conoscere per capire anche quando è il momento di superarli di metterli da parte di uscire dalla nostra zona di comfort non vi dico altro se la cosa vi incuriosisce trovate l'articolo sotto fonti e articoli sulla pagina rassegna stampa e del cambia.org Allora, prima di salutarvi alcune cose importanti come ormai saprete in queste settimane estive io non mi rassegno esce in maniera più frammentata al ritmo di due o tre puntate a settimana però per non farvi andare in crisi d'assinenza domani uscirà, come al solito, il venerdì io non mi rassegno Sardegna mentre sabato per abbonati e abbonate esce io non mi rassegno più il tema questa volta sono la situazione degli aborigeni in Australia una situazione che definirei tuttora paradossale per un paese occidentale per una democrazia occidentale per lo meno che però è importante conoscere perché non si conosce spesso non si conosce perlomeno non in maniera particolarmente approfondita bene, detto ciò io direi che noi ci possiamo fermare qui vi do appuntamento la prossima settimana sul canale YouTube sulle principali piattaforme di podcasting nonché sulla pagina rassegna stampa e del cambia.org voi mi raccomando state bene fate i bravi e ricordatevi che chi si rassegna è perduto